Sfide Viviamo in un mondo in cui una persona sonnova e denutrita. Soluzioni Aumentare la produttività agricola e garantire un equaccesso al cibo per tutti. Sfide Il 75% della varietà delle colture è stata persa a causa della monocultura, così che le coltivazioni sono diventate vulnerabili agli attacchi dei parassiti e alle malattie. Soluzioni Diversificare la varietà delle piante per ridurre l'insuccesso e promuovere una dieta nutritiva. Sfide I piccoli proprietari terrieri forniscono l'80% del cibo consumato nei paesi in via di sviluppo. La loro agricoltura è pluviale e vulnerabile soprattutto alla siccità e alle alluvioni. Soluzione Investire sui piccoli proprietari terrieri, specialmente donne, per incrementare la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione dei più poveri. Investire sui piccoli proprietari terrieri, specialmente, Sfide Sfide Alla prossima Grazie a tutti.